Muoversi. Infomobilità in Campania. Il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli Montoro Nord e Solofra verso Avellino. Sulla strada statale 7 bis di terra di lavoro fino al 5 di settembre per un cantiere è attivo il restringimento di carreggiata tra le località Mugnano del Cardinale e Monteforte Erpino in tratti saltuari. Sulla strada statale 268 del Vesuvio fino alle 17 di venerdì 29 settembre per lavori è istituito lo scambio di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Palma Campania e Ottaviano zona industriale verso Napoli con uscita obbligatoria allo svincolo Ottaviano zona industriale della carreggiata verso Angri. Nella stessa direzione sono chiusi anche gli svincoli d'ingresso ed uscita Ottaviano San Giuseppe Vesuviano Nord e Ottaviano zona industriale e lo svincolo d'ingresso Palma Campania. Sulla tangenziale di Salerno fino alle 18 dell'8 settembre per lavori è attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Salerno-Est e zona industriale in direzione Fratte. A Napoli per consentire interventi di manutenzione all'impianto di illuminazione dalle 23.30 del 5 alle 5 del 6 settembre è chiusa al traffico la Galleria Vittoria in entrambe le direzioni. Per la redazione Muoversi in Campania, Rossella Altamura. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania